Ciao, sono Vittorio Zizza, sindaco di Carovigno. Sono candidato al Senato della Repubblica nella lista del Popolo della Libertà. Abbiamo un'occasione per rappresentare Brindisi e la sua provincia a Roma. Dobbiamo difendere e rappresentare questo territorio per creare opportunità di crescita, di sviluppo e quindi di lavoro. Vai a votare. Non sprecare questa occasione. Vota un rappresentante della tua terra. Sostieni le liste del Popolo della Libertà. Grande festa di chiusura di campagna elettorale. Questo venerdì sera alle 21 presso Riva Marina Resort. Statale 379 Baribrini si uscita a Specchiolla. Ospite Ucciole Santis. Per tutti, buffet aperitivo e ingresso libero.